Con 220 voti per il romanzo Borgo Sud, edito da Bompiani, Donatella di Pietrantonio entra nella cinquina dei finalisti della 75esima edizione del Premio Strega, anticipata da Emanuele Trevi, con 256 preferenze per Due vite, edito da Neripozza, ed Edith Brook, con 221 voti assegnati al pane perduto, edito dalla nave di Teseo. Eseguita da Giulia Caminito, 215 voti con L'acqua del lago non è mai dolce di Bompiani e Andrea Baiani, 203 preferenze al libro delle case pubblicato da Feltrinelli. La proclamazione della cinquina è avvenuta ieri sera, giovedì 10 giugno, nello scenario del Teatro Romano di Benevento. Con Borgo Sud, edito da Inaudi, la scrittrice abruzzese originaria di Arsita, che appenne vive e lavora da odontoiatra pediatrica, dà vita e voce ad Adriana e Larminuta, le due sorelle protagoniste del libro, vincitore del Campiello nel 2017, che da bambine complici e insofferenti si ritrovano donne cariche di slanci e delusioni, in un'opera intima e intensa che torna a far parlare dell'Abruzzo e di quella genuinità dei territori e dei borghi in cui la narrazione diventa autentica e potente. La storia narrata da Donatella di Pietrantonio vuole insegnare le conseguenze del disamore. Se non hai conosciuto, ha preso la lingua dell'affetto in famiglia, quella lingua diventa più ostica ad adulti, dichiara la scrittrice, che al TG8 racconta l'esperienza della cerimonia in cui sono stati resi noti i cinque romanzi finalisti della 75esima edizione del Premio Strega, il cui vincitore sarà annunciato il prossimo 8 luglio. Sono molto contenta di essere tra i finalisti del Premio Strega 2021, molto contenta per un romanzo a Borgo Sud fortemente radicato sul nostro territorio. Sono stati determinanti per l'ingresso in cinquina, i voti arrivati dall'estero, dagli istituti italiani di cultura, nelle varie sedi in Europa e nel mondo, dalle società d'antiaglieri. Questo mi ha fatto veramente molto piacere. Sono contenta per le mie protagoniste, le due sorelle che continuano la loro strada. Ringrazio chi mi ha sostenuto, ho sentito arrivare il tifo dall'Abruzzo fin qui a Benevento. In particolare quello di Borgo Sud, questo quartiere marinaro di Pescara che fino a poco tempo fa non conoscevo e che mi ha accolta con molto affetto.